A tutti al Millionaire Car Show presentano Marco Predolin con Cecilia Belli Salve a tutti, salve salve a voi in studio e soprattutto a voi che ci seguite da casa Fermi dove siete perché sta per arrivare a casa vostra la Millionaire VIP Car È una carta di accreto che potrà cambiare sicuramente il vostro modo di fare acquisti e soprattutto vi farà risparmiare E ancora vi farà sentire sempre di più questo meraviglioso suono, il suono della parola gratis La Millionaire VIP Car costa solo 198.000 lire, pensate, meno di 600 lire al giorno E vi darà delle grandi opportunità al di sopra di ogni vostra aspettativa Attenzione perché con Millionaire VIP Car avrete diritto a sconti e agevolazioni in migliaia, dico migliaia di negozi in tutta Italia E poi ancora potrete usufruire appunto della consulenza di professionisti di ogni categoria Dal medico all'avvocato all'idraulico, addirittura pensate il soccorso stradale E sempre con questo dolce suono, la parola gratis Grazie Grazie, ma tu devi sapere, caraccia sciglia, anche i nostri amici da casa devono sapere che oltre alla Millionaire VIP Car a 198.000 lire C'è un'altra Millionaire Card che assicura sconti e accrediti e si chiama Millionaire Cheap Card E che cosa vi dà? Vi dà la possibilità di spendere, di fare, di effettuare i vostri acquisti nei negozi convenzionati con Millionaire Market Per esempio, vediamo e ascoltiamo qualche esempio, c'è qualcuno che ha usato la Millionaire Cheap Card? Brava, allora, sentiamo che cosa ci racconta questa persona Io l'ho usata per i miei acquisti delle vacanze, ho avuto tanti sconti che mi hanno permesso così di toglierne qualche sfizio in più prima dell'estate Inoltre con i punti accumulati mi sono portata a casa un piccolo televisore senza spendere un soldo di più Bravissima, complimenti! Allora telefonate subito al numero verde, console 198.000 lire Che poi cosa sono 198.000 lire? Dividetele per 365 giorni all'anno, sono praticamente 600 lire al giorno Allora sono veramente niente e potrete ricevere risparmi fino a 5 milioni l'anno Ma dico, ma fatelo subito, telefonate e in più chiamate anche per la Millionaire Cheap Card Che con sole 10.000 lire vi permette di ricevere sconti e accrediti in decine di migliaia di negozi convenzionati con Millionaire Market E ricordatevi che con Millionaire Card più spendi, più guadagni E attenzione, attenzione, eh! Quello che sto per dirvi è molto importante Se chiamerete in questo momento e quindi oggi e ordinerete la vostra Millionaire Deep Card Riceverete in omaggio la Millionaire Cheap Card Ok? Quindi chiamate subito e la parola d'ordine è... Gravissima! 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 Grazie a tutti.